Ma che Milan ragazzi, ma che Milan, innanzitutto, innanzitutto, il Milan è vicino all'Europa ancora di più di quello che pensate, ve lo spiegherò subito, secondo punto, si parla tanto di Pioli, Pioli deve andare via, è chiaro che ormai Ragnick è lì, è proprio là, dietro la porta, però parleremo anche di questo, terzo punto, chi è stato il migliore in campo, ho fatto le pagelle e ve le faccio vedere domani, sicuramente le metterò domani se me lo chiedete, detto questo, qualche like per aiutare questo canale, e via così, Allora, Europa è vicina, l'Europa è vicina, assolutamente vicina, c'è, ricordatevi di togliere dalla classifica il Napoli e rimangono solo due posizioni per l'Europa, è presa in questo momento da Roma e Milan, in questo caso il Milan sarebbe settimo o sesto, anche se arriva sesto non ha importanza, dovrebbe fare i preliminari, fa i preliminari, si va a prendere questa Europa League, i gironi, la gente si diverte, perché così il Milan non può stare fuori dall'Europa, Il Milan non deve stare fuori dall'Europa, è ovvio che i milanisti, io sono interista, lo sapete, i milanisti vogliono il Milan lì in Champions League, è chiaro, però, 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 anche avere il Milan in Europa League, uno si passa il giovedì, Uno incontra anche squadroni, PSV in Doveni, Benfica, è così che funziona anche l'Europa League, è molto più nobile adesso, questo Milan ci può arrivare, sì che ci può arrivare, addirittura può anche andare a prendere la Roma, perché ho visto un Milan quadratissimo, ho visto un Milan bello, davvero bello, e vi dico un'altra cosa che forse non è venuta in mente a nessuno, Guardate, con questo Milan, con Hernandez e Castiglieco, questo Milan va a vincere a Torino, va a fare la finale di Coppa Italia, ormai è acqua passata, è quella che va bene, eccetera, eccetera, però, davvero, questo Milan così è un Milan ottimo, E il Piori sta trovando la quadra, sta trovando la quadra, ha capito il gioco, ha capito i giocatori, addirittura, se avete notato, c'è stata una particolarità molto, molto nuova per il Milan, la posizione di Chessy e Benasser, Chessy ha fatto un partitone, Benasser un po' meno, però, a fare, a impostare il gioco, ci ha pensato che sì, avete fatto caso? Ci avete fatto caso? Appena passava la palla, Chessy andava in avanti e dietro a lui si ci metteva Benasser, questo è stato molto importante, scusatemi, devo interrompere una cosa qua, altrimenti si sente l'eco, e questo è il Milan, il Milan ha giocato veramente, veramente bene, ripeto, la classifica è ottima per il Milan a questo punto, deve andare via Pioli, cioè Pioli deve andare via, una volta che tu hai trovato la quadra, una volta che faticosamente stai cominciando a mettere su un progetto di squadra, e comunque arriverà al quinto o sesto posto, non è che il Milan arriva al quindicesimo posto, cioè lì vicino alle grandi, solo che abbiamo la Juve che è la Juve, la Lazio sta facendo un campionato enorme, l'Inter sta gettando un sacco di soldi perché sta comprando i giocatori e si vede alla fine, e l'Atalanta, non ne parliamo, l'Atalanta ne possiamo, facciamo un video forse domani su quello, detto, togliendo queste quattro squadre, l'anno prossimo io non so se la Lazio farà lo stesso campionato, il Milan può arrivare al quarto posto, però, se gli cambi di nuovo tutto, se gli cambi di nuovo tutto e se gli dai vantaggi agli altri 4, 5, 6 punti dopo 10 giornate, è difficile, è difficile andare a riconquistare, però, queste sono cose che deve pensare il Milan come società, dopo tutto la società, i Dene, li cacciano loro, e quindi sono loro a prendere queste decisioni, detto questo, io non vi faccio le Castiglie Pagella adesso, però vi posso dire, secondo me, che è stato il migliore, il miglior in campo che io ho visto per il Milan oggi, a me, anzi, sono stati diversi, mi è piaciuto molto Castiglieco, mi è piaciuto molto Chessi, a me è piaciuto molto, lo stesso Romagnoli ha giocato molto bene, ovviamente Hernández, hanno giocato tutti bene, attenzione, 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 perché ho un'impressione, questo ve lo dico davvero, non da milanista, perché non sono milanista, ve lo dico da interista, però con tutto il rispetto per la vostra squadra, attenzione, ho questo feeling, ho questa impressione, io qualche volta, ovviamente mi sbaglio, ma qualche volta no, l'impressione è che la squadra si è raccolta attorno a Pioli, e sono lì un po' a vedere cosa succederà con i nuovi acquisti, con la nuova società, con il nuovo allenatore, ma in questo momento questa squadra si è raccolta attorno a Pioli, questa squadra è Pioli, ed è un peccato, perché Pioli aveva fatto bene alla Lazio, ha fatto bene al Palermo, ha fatto bene all'Inter, a questa persona gli manca qualcosa, forse un po' di fortuna, perché alla fine, davvero, ha morsi, ha morsi, ha portato il Milan in questa situazione, vincere a Lecce non è che sia difficilissimo, però l'Inter non ha vinto, la Juve non ha vinto, adesso si apre un altro, davvero, si apre un altro fronte, è quello della Serie B, ci divertiremo, perché sono tante squadre che possono scendere giù, ma parlando del Milan, io vi assicuro che questo è il più bel Milan che ho visto questa stagione, ma subito, da subito si era vista, si era visto Casillego, si era visto Hernandez, chissà, il quarto posto non ci arriva, è troppo distante, il Milan è troppo distante dal quarto posto, però l'Europa non te la puoi fare scappare, non te la puoi più fare scappare, il punto è, sarà Europa League accesso diretto o sarà preliminari? Attenzione, è molto importante, ricordate l'anno scorso, gli anni passati, Torino, quando ci arrivavano queste squadre, i preliminari sono antipatici, i preliminari dell'Europa League sono antipatici, perché non ne fai mai uno, di solito ne fai due, quindi anche la preparazione va un po' a puttana, non è granché bello, non è granché bello, quindi il punto, l'obiettivo del Milan deve essere quello di inseguire la Roma, adesso la Roma, può essere presa la Roma, ragazzi, può essere presa la Roma, seguo questa squadra, seguo il Milan praticamente da quando era bambino così, no davvero, lo seguo da quando ho incominciato con il Milan e l'Inter e anche un po' la Juventus, ho incominciato con queste tre squadre a seguirle da quando facevano il precampionato, ancora facevano il mercato, quindi un po' l'ho visto crescere il Milan e vi posso dire, vi posso garantire che il Milan più bello è quello di adesso, molto più solido, si è capito, dove anche il Milan ha capito, si è raccontato, ha capito se stesso, ha capito se stesso e ha capito quali sono i punti deboli, quindi i vari conti, i Calabria, li difende di più quelle fasce, li difende di più quelle posizioni, e dopo è un Milan un po' più sicuro, si era visto anche con la Juventus in 10, poteva anche farcela, ragazzi, complimenti, una bella partita, davvero una bella partita, adesso vediamo la Juve, comunque, comunque, questo è al solito, e stiamo ricominciando, se ho un sacco di iscritti, sempre di più, sempre di più, e questo mi fa piacere, mettete mi piace, la campanella, io lo dico ma voi non lo fate mai, mettete mi piace, specialmente se sei arrivato a questo punto, campanella se non l'hai già messa, iscriviti se non sei iscritto, commenta, io rispondo quasi sempre, ciao ciao!